A conclusione, un ringraziamento a voi sindaci di Rotone e Pichetta, perché io vengo da un paese che è il Laino Borgo, dove la democrazia è assente, mi ricordo Bari, ma devo dire quello che ha ripetuto nell'ultimo Consiglio Comunale, e cioè che è importante il denaro che il Comune di Laino Borgo abbia avuto, il denaro, questa ha detto una querella di maggio per il Comune di Laino Borgo 630.000 euro, alla faccia della nostra salute, scusatemi l'espressione, e anche purtroppo la vostra. E questa è una cosa che mi diria profondamente, perché il denaro, il denaro, il potere del denaro offusca la vista e spegne il cuore, e gliel'ho scritto in un manifesto, perché deve sapere che ci sono cittadini, e sono tanti cittadini, anche quelli che non parlano, che sono, che ascoltano questa mia voce e che sono d'accordo con me. Grazie, grazie. Grazie in modo particolare, la signora Almentano, anche perché fra le altre cose Laino è quello che ci ha visto impegnati, c'è stata una volta da Laino, ci hanno convocato perché dovevamo fare azione contro la generale, il Comune di Laino, un giudice Casson, un giudice... Mi scuso, è una precisazione, siccome l'avvocato mi ha richiamato, a questa precisazione la devo fare, ultimamente è stata da sindaco Gaterini, perché avevo rilasciato un'intervista in cui dicevo che era stata fatta una convenzione, fra Laino e Laino Borgo, è stato il primo comune, per denaro e non per lavoro ovviamente, siccome non avevo precisato bene questo concetto nella foga dell'intervista, il sindaco mi ha denunciato penalmente, questa denuncia che è stata, come dire, messa in un cassetto a Castrovilla e adesso si trova al Tribunale di Bari, competente, perché era competente al Tribunale di Bari, quindi io andrò a difendermi in processo al Tribunale di Bari da questa accusa, ovviamente come tutti possono osservare, è campata completamente in aria. Non c'è da preoccuparsi, non c'è da preoccuparsi, perché uno che si chiama Giovanni Pandolfo è stato lo stesso come te, mandato davanti al giudice perché avevamo fatto una dichiarazione contro la centrale, siccome c'era stata messa una firma, dopo aver letto il documento del sindaco di Laino, dice no quella non è la mia firma e via a dire, ma nemmeno la mia è mia, l'interessante che la verità è che noi non vogliamo la centrale e di fatto mi hanno assolto, non ci sono problemi. Invece tornando a quello che è stato detto prima, io volevo dire che a parte che il turismo c'è crisi dappertutto, però nei parchi il turismo va crescendo, va crescendo, non abbiamo bisogno di ricorrere all'Enel per avere contributi, perché il parchi invece di impegnarsi alla ricerca di fondi aggiuntivi, basta chiedere l'applicazione dell'articolo 7 della 394, l'articolo 7 della legge sui parchi dice una cosa così chiaro che tutti i comuni all'interno dell'area parchi hanno la precedenza indolta e finanziamenti coerente con le finalità del parco e c'è da aggiungere il resto, che anche il singolo cittadino, però in Italia le leggi si fanno, però per applicarlo nemmeno i parchi lo rivendicano quest'articolo, potrebbero rivendicare quest'articolo, in più volevo dire, io spero che non è che debba avere ragione come disse in Basilicato, come disse in Basilicato, la ragione in Basilicato sul petrolio, se vuoi la storia mi avrebbe dato ragione, dopo 11 anni la storia si è verificata e va a dare, mi hanno dato ragione, perché ho detto le cose che si verificavano, l'ho detto e si sono verificate, per la città ci stanno aspettando ancora di più, però alla fine avremo certamente ragione, perché non può essere diversamente, perché dal punto di vista legale, dal punto di vista delle falsità che hanno messo in quella specie di progetto progetto, basta leggerlo, ognuno di noi deve essere professore per capirlo, ci sono delle falsità e io lo dico sempre che ci sono falsità, però non fanno come hanno fatto che la signora, quindi sono così evidente, che non c'è motivo per cui dice, hai detto una cosa che non la poteva dire, quindi non lo possono fare, invece volevo dire che un'altra cosa, a centrale prima o poi la spantello, io non ho capito semplicemente perché devono venirla a farla funzionare qui da noi, c'è Piombino, Rossano Calbro, Porto Tolle, Fiume Santo, Brindos Nord, Livorno, Mondalto, Lericavur, Genova, sono tutti i centrali che devono smontare perché qui la vogliono fare e lì ne devono smontare, dove c'è pure la Biomasse, in quelle zone, ma se ne quante vengono voi, e che loro vengono qui perché pensano che siamo gli offensi, siamo quelli che noi possiamo accettare tutto, infatti quando io debbi a chiedere occupazione, ma che occupazione? No, quello diceva semplicemente che portava a sviluppo, qui portiamo a sviluppo, ma quando sviluppiamo come occupazione? No, da 40 dobbiamo ridurci a 35, ma poi c'è l'indotto, l'indotto ci succede poi da trasportare, allora io acquisto uno camionista, posso fare? Ah no, noi non possiamo, vecchio, pago uno solo, allora i lavori non ce ne sono, i lavori semplicemente se la smontano la centrale, solo così è di fatto ai sindacati, quando sono venuti i sindacati in comune a scioperare, gli ho detto ma noi abbiamo bisogno di lavoro, sì un lavoro ve lo do io, e come? Basta che il mondato la centrale! Per il resto, che vi devo dire? Non è semplicemente un Presidente del Parco, che è uno che sta, un Presidente del Città, se il direttivo, il direttivo, non avevo del coraggio di venire qualcuno qua, nemmeno quelli che rappresentano l'ambiente, c'è un rappresentante dell'ambiente, però nessuno si è sognato di venire a incontrarci, ma per quale motivo, come, quando, perché, che cosa possiamo fare? No, nessuno, quindi non è semplicemente questione solo di Presidenza, di Presidenza in un po' particolare, ma anche gli altri, quindi, e più, e più, e più, la seduta, e? Che? Quale, quella della seduta? No, no, quella del, non solo il Presidente, che l'ho perso, lì. Eh, è chiaro, quello è tutto, quello è il direttivo, o si deve dimettere, o si deve dimettere, oppure, oppure, ha fatto, diciamo già, ha detto che non è favorevole alla seduta, però una volta che uno non è favorevole perché non viene, perché non vengono qui, non vengono a parlare con noi, vediamo una mano, perché non ci dimettere, per esempio, perché non ci dimettere, certo che ci dovremmo dimettere, infine, infine, la cosa, la cosa che c'è da dire, c'è una cosa da dire che comunque è una cosa che era, non si doveva verificare, fanno una seduta del direttivo e non fanno entrare, nello Statuto c'è scritto che le sedute sono pubbliche, quando io ero al parco ci feci inserire questo detto, perché non voglio che qualcuno si deve mettere e può parlare, può fare, e non va a sapere quello che decide, e c'è scritto che le sedute sono pubbliche, e quindi la seduta è nulla quello che hanno fatto, perché non è pubblica, perché l'agenda ha chiesto di assistere, non ha potuto assistere, quindi la seduta, secondo me, se uno la imbugna è dura, ma a parte questo, vediamo che cosa dobbiamo fare per il futuro, quindi noi facciamo le cose più concrete, allora noi dobbiamo aggiornarci, per quanto riguarda l'aggiornamento faremo sapere magari, con un bollon dici, non come adesso, non come adesso, stasera, stasera, quando? No, l'aggiornamento sull'argomento, nel senso che discuteremo dell'argomento, bok�침que, prima di Natale, bollono dici, prima di Natale, prima di Natale, sì, la natale, la natale, la natale la dobbiamo stabilire, la natale, la natale, la natale la proposta, si, la natale la proposta, non abbiamo lontano, no, no, stasera il caso, non neampolgo, con il consolopente, dobbiamo stabilire la natale, perché ognuno non assume nemmeno impegni per altre cose allora a lunedì 16 allora la giorniamo a lunedì 16 ore 17 come oggi allora la seduta io faccio una proposta dell'aggiornamento di questo allora allora sempre qui noi chiederemo qui di stare qui allora facciamo l'aggiornamento l'aggiornamento della seduta quindi non dobbiamo sviluppare non dobbiamo sviluppare la delibera allora a lunedì alle ore 16 sì